Alano Fulvo Alano Arlecchino San Bernardo San Bernardo, pelo corto, quello di prima era pelo lungo Mastino dei Pirenei Terri e Nero Russo Cane da Pastore dell'Asia Centrale Terra Nova Bovaro del Bernese Ovava Cane Corso Togo Argentino Rottweiler Riesel Schnauzer Bull Mastiff Mastino Napoletano Boxer Schnauzer Medio Pepe Sale Schnauzer Medio Nero Schnauzer Nano Pepe Sale Schnauzer Nano Bianco Schnauzer Nano Nero Bulldog Inglese Schnauzer E Affen Pinscher Nel prerinde intanto tutti i migliori soggetti Terrier Come sempre Questo raggruppamento è numerosissimo Quindi Qualchi istanti più al giudice Per selezionare i sei soggetti che poi prenderanno posizione sui bolli Vedete che sono razze molto diverse tra di loro sia per quanto riguarda la taglia ma anche per quanto riguarda la tipologia perché sono tutte comunque accomunate in questo raggruppamento perché sono razze utilizzate per la difesa e utilità Per selezione per l'Alano Fulvo San Bernardo a pelo lungo Terrier Nero Russo Bull Mastiff Schwerksnauzer Pepe Sale E Affen Pinscher Un ringraziamento a tutti gli altri soggetti che lasciano il ring Come sempre li vedremo in movimento Questa razza di origine tedesca che è l'Alano Alano precisamente mantello colore Fulvo San Bernardo San Bernardo che abbiamo visto nelle due varietà di pelo, pelo lungo e pelo corto E' ora la volta del Terrier Nero Russo Come vedete tutti i giudizi sia quelli tecnici del mattino che quelli nel rindonore si svolgono nella stessa maniera Ossia il giudice visiona i soggetti in stazione, ossia da fermi e poi in movimento E' ora la volta del Bull Mastiff Razza di tipo molossoide inglese E ora la volta dello Schwerksnauzer o Schnauzernano Pepe Sale E' il più piccolo per quanto riguarda la famiglia degli Schnauzern che è una razza di origine tedesca Ed infine vediamo il movimento Huff & Pinchel Il giudice salute e sei finalisti di quinto secondo raggruppamento Canipo Pinchel, Schnauzer, Molossoide e Bovari Svizzeri E così è deciso Al terzo posto lo Schwerksnauzer Pepe Sale Al secondo posto l'Alano E andrà in finale il più piccolo Huff & Pinchel Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie ai fotografi Proseguiamo ora con il terzo raggruppamento Al prossimo episodio Al prossimo episodio